Ciao! Oggi vi presentiamo la nostra Corona dell'Italia. L'idea per avvicinare i nostri bambini al 25 aprile e al suo significato. Siete pronti a lavorare? I materiali per questo laboratorio sono la nostra scheda stampabile, scaricabile gratuitamente, forbici, colla stick, pastelli. Iniziamo a colorare la nostra bandiera. Dapprima l'asta marrone, poi la prima fascia verde, la centrale rimarrà bianca e l'ultima a destra di rosso. Noi abbiamo utilizzato i pastelli, ma voi siete liberissimi di cambiare, con pennarelli, pastelli a cera, acquerelli, tempera, digito, tutto ciò che vi piace. Questo è un lavoretto davvero semplice, adatto a ogni fascia di età e i bambini saranno ben contenti di portare in testa la loro corona. Vi ricordo che tutte le nostre schede sono completamente gratuite per voi. Ritagliamo con le forbici tutte le parti del nostro lavoretto. Quindi troveremo una prima fascia dove c'è scritto incollare sia a destra che a sinistra e una seconda con la bandiera incorporata. Noi le fasce le abbiamo lasciate bianche, però voi potete colorarle come più vi piacciono. Per la bandiera ci vuole un po' più di pratica nel taglio, ma niente di impossibile. Prendetela come un'ottima palestra per esercitarvi sul taglio. Ed ora incolliamo le due strisce con l'aiuto della nostra colla stick per poi riunirle in un cerchio così da creare la nostra corona. Ovviamente prendete la misura del capo del bimbo per non farla troppo grossa. Se ti è piaciuto lascia un like, ci trovi su Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest. Iscriviti ai nostri canali per non perdere i prossimi tutorial.